Grazie Però il discorso è questo, ora voi mettetevi anche i miei dipanni, Giorgio Cucido è il più grande esponente dello swing italiano secondo me in questo momento, ma non solo secondo me, anche secondo me, e suona il sessore. Filippo Dell'Otri suona con la risata spetta, è un grandissimo jazzista, ma suona con la ritarda, prendetevi conto di che deve suonare un tavolo con le tovagliette, chiederei un applauso solo per questa persona. Nella comunicazione l'idea incontra. Deve essere senza le tovagliette. Lo farò con la bocca, con l'amiciare. Adesso uno special. Il poterò in tenderly. Tenderly? Tenderly. Tenderly. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.